Ciao a tutti e bentornati sul canale. Con questo video voglio comunicarvi che la programmazione dei video del giovedì e quelle delle videoricette del sabato verrà interrotta fino a metà settembre. Io sto per andare in vacanza e spero di riuscire a portarvi con me come ho fatto negli anni passati. Quindi vi auguro una buona estate, un buon ferragosto. Mi raccomando continuate a seguirmi sui social perché lì sarò ancora molto presente. Pubblicherò tante foto e tanti nuovi post. Vi lascio i link ai miei canali qui sotto e se non siete ancora iscritti ovviamente iscrivetevi. Ciao e a presto!